Satiricon è uno degli ultimi lavori che Maderna ha terminato, dopo Satiricon ha scritto l'ultimo concerto per Ovoe, è un'opera buffa, stranamente o forse non stranamente, anche nel caso di Maderna l'ultimo lavoro è un'opera buffa, come è stato nel caso di Verdi per esempio con Fasta, come è stato nel caso di Donatoni con altre d'Alfred, Maderna sapeva di essere molto malato e ha deciso di ripercorrere tutta la sua vita ripescando in quest'opera una serie incredibile di citazioni musicali, Maderna era fatto di musica e ripensando tutta la sua vita probabilmente per ridare cercare il senso della sua vita ha messo in scena questo Satiricon appunto farcito di moltissime citazioni musicali. Io ho conosciuto Maderna nell'ultimo anno della sua vita quando era direttore artistico all'Orchestra della Rai che allora esisteva a Milano, mi commissionò un'opera, un concerto, un pezzo sinfonico e ho lavorato con lui quindi diciamo per vari mesi, alla fine lui ha diretto l'opera e in tutto questo periodo abbiamo avuto molti contatti e ho conosciuto bene diciamo il suo pensiero e la sua musica, ho diretto più volte il Satiricon negli ultimi vent'anni, ho realizzato un CD e l'ho messo in scena con tre diverse produzioni, sono molto contento di averlo rifatto, di rifarlo adesso con gli allievi del conservatorio con cui ho lavorato molto bene finora, oggi è l'ultimo giorno di prova e domani avremo la generale e poi le due recite come è successo anche l'anno scorso con Alfred D'Also di Zanattoni abbiamo lavorato molto bene e credo che ne verrà una buona produzione. Satiricon di Bruno Maderna è un'opera affascinante, un'opera inquietante, un'opera che deriva da un grandissimo classico della letteratura di tutti i tempi, il Satiricon di Petronio Arbitro e una reinvenzione diciamo un po' favolistica fra il sogno, l'incubo, le note della realtà in cui noi abbiamo voluto giocare tenendo conto anche di un'atmosfera fuori del tempo che è stata anche molto supportata dalle coreografie di Simone Magnani, quindi in un'atmosfera completamente onirica ci troveremo immersi in un finto teatro di una Roma antica e sognata che si avvarrà delle scenografie di Lidia Bagnoli. Siamo in questa sala Verdi che per me è estremamente importante come input, come idea, come stimolo per creare un rimando che si ripete ogni volta. Lo spazio è aperto quindi nessuna chiusura, nessun ripercorrere lo schema del teatro classico, del teatro all'italiana, niente di tutto ciò ma è proprio mantenere questa apertura. Quindi c'è questo rimando, sono tutti dei rimandi continui a questo ambiente che ovviamente va dai Colombari all'Eur, va a Bosch, questo grande motivo di questo orecchio diciamo semovente ma non riveliamo più di tanto e con questo meccanismo molto teatrale però molto anche libero. Come libero è stata anche la mia interpretazione, come libero è stata anche la scelta appunto di Sonia di lasciarmi molto libera e su questo voglio insistere molto perché secondo me solo dalla libertà nasce un qualcosa di nuovo e produttivo e anche molto creativo e molto stimolante. Satiricon di Bruno Maderna, venerdì 3 novembre ore 20 e 30, Sala Verdi del Conservatorio di Milano e domenica 5 novembre ore 18 sempre in Sala Verdi del Conservatorio di Milano.